Oh ma salve appassionati di tecnologia, in redazione ci è arrivato un prodottino che abbiamo dovuto fare ammazzate per aprirlo cioè nel senso che nessuno voleva unboxarlo e aprirlo e quindi è toccata a me vabbè pazienza, grazie Luigi, grazie Vincenzo ma prima di andare ad aprire il pacco e scoprire di che cosa si tratta vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace così sulla fiducia e attivare la campanellina per essere avvisati quando sarà pubblicato il prossimo video mi raccomando fatelo perché se no il boss si arrabbia ragazzi fatelo perché il boss, cioè non lo vedete così, tranquillo, carino, precioccoso si arrabbia, si arrabbia il boss ragazzi andiamo ad aprire il pacco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti a questo punto del video nelle istruzioni fanno vedere che aprono qui questi gancetti e fanno passare il cavo io ce l'ho spinto direttamente dentro come quando si passa il cavo in una canalina questa cosa vi velocizza un pochettino benissimo dopo ore e ore e ore di lavoro ce l'abbiamo fatto adesso non ci resta che accenderlo e provarlo il montaggio comunque in realtà è semplice dopo un po' si prende dimestichezza perché basta inquadrare il codice qr che c'è sul manuale utente e vi riporta un video su youtube dove poi diventa appunto semplicissimo seguendo passo passo però appunto ci si impiega un po' di tempo soprattutto se è la prima volta come se è la prima volta come nel mio caso che si va a montare un incisore laser ma adesso andiamolo subito a provare e vediamo un po' ma che ce ne dobbiamo fare di un incisore laser a cosa ci può servire? dobbiamo farci venire in mente un'idea benissimo ci siamo non ci resta che fare la prima accensione e vedere che cosa succede prima però spellicoliamo in dotazione insieme a questo mitico incisore laser abbiamo anche un pennellino poi qui vabbè dove c'erano un po' le ritini ci arrivano già queste tavolette di compensato per fare delle prove ecco qui 3 per l'esattezza un pennarello una dima per posizionare bene insieme a quest'altra nera poi vi faccio vedere cosa serve e una chiavetta usb quindi veramente molto completo il packaging di questo prodotto di questo incisore laser eccola qui benissimo accendiamo il nostro incisore laser questo suono non vi fate spaventare ecco qui l'avvio è immediato e questo è come si presenta subito il display qui abbiamo l'opzione di setting dove potremmo trovare una lingua a noi familiare no c'è soltanto l'inglese e il cinese quindi torniamo indietro qui ci sono le informazioni sulla potenza del laser sulla potenza di funzionamento della macchina guardate 12 volt con 4 ampere la versione della mainboard a bordo supportate ed eventualmente il supporto il contatto se volete appunto contattare l'azienda avete delle necessità tanto qui ci dice il modello e le dimensioni di volume che un 40 per 45 centimetri ecco qua torniamo ancora indietro qui c'è il settaggio controllo dei vari bip volume io lascerei attivo in questo caso roll mode la il posizionamento guardate l'abbiamo già messo per eventualmente fare delle incisioni su metalli e su altre cose particolari quindi si collega a parte lo andiamo adesso a scollegare perché non ci servirà lo mettiamo da parte e ricolleghiamo lo spinotto siamo proprietario dell'asse y ovviamente non potete sbagliare perché i cavi sono diciamo direzionati sono obbligati ancora vediamo un pochettino qui mod che ci fa vedere lo spostamento sull'asse x questo qui sull'asse x y qui abbiamo i millimetri in 0,1 un millimetro oppure di 10 millimetri alla volta che lo spostamento su cui possiamo andare a lavorare torniamo ancora nella modalità home lateralmente abbiamo la possibilità di inserire attraverso una chiavetta usb con il suo adattatore c'è una scheda sd che si inserisce qui lateralmente oppure abbiamo la possibilità di inserire un cavo usb qui direttamente al pc dopo aver settato l'asse delle x e delle y in questo modo portato a 0 andiamo a fare la prima anteprima scusate il gioco di parole abbiamo già inserito il logo ciao 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 ad incidere anche sul metallo altro piccolo suggerimento che mi sento di darvi l'applicazione si funziona benissimo da computer quindi se volete fare un lavoro di precisione andare più nel dettaglio ma per dei lavori più semplici vi consiglio di trasferire tutto quanto attraverso questo adattatore sulla sd inserire la sd qui dentro nell'incisore e far partire lì perché avete tutti quanti poi i comandi direttamente a display e questa è una cosa molto comoda anche perché durante l'incisione vi permette di regolare l'aspirazione vi permette di regolare la potenza dell'incisione quindi vi offre alcune regolazioni che io almeno da applicazione tramite pc non sono riuscito a fare bene io ringrazio ancora una volta la flying beer per averci inviato questo prodotto per avercelo fatto provare mando la linea allo studio alla redazione e come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e fateci sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti siamo felicissimi di rispondervi se avete delle curiosità o volete sapere altro circa a questo incisore laser e vi ricordo che per la recensione testuale potete andare su vincenzocaputo.com per andare a leggere nel dettaglio quello che il nostro caporedattore poi andrà a scrivere su questa macchina incisore laser